Già da piccolo avevo la vocazione di fare sacerdote, ma comunque non devo dire nulla, perché il Signore ci ha creati già prima che la terra nascesse, ci aveva già creati. Qui ha fatto la nostra vita, l'ha già scritta e tutto. Quindi se c'è scritto, quando diventare grande il suo amore delfino dovrà sposarsi con una donna, eccetera, eccetera, va bene. Io mi accontento di quello che ha scelto il Signore, perché se ha scelto quello, io faccio quello. Se il Signore ha scelto quello, io faccio quello, perché io sono servo del Signore. Per me essere chi ha creato è un onore, perché è un piccolo onore, perché io non me lo meriterei, ma ho questo onore di essere chiichetto, ero chiichetto alla mia parrocchia, ma adesso ho avuto un grande onore di essere chiichetto del Papa, di essere chiichetto di San Pietro, forse del Papa anche, ma è un grande onore questo, perché in teoria sono 13 in tutto il mondo, quindi è un grandissimo onore veramente essere qua. Grazie a tutti. Grazie a tutti.